Gatti sui tetti di trani, troppi però, tanto da destare allarme tra i residenti. Un'intera colonia si è stabilizzata sul terrazzo di un palazzo semiabbandonato del centro storico. Chi vive lì vicino protesta, gli animalisti, temendo il peggio per le bestiole, si mobilitano. A decine, grandi e appena nati, scappano, appena vedono qualcuno avvicinarsi, escono solo quando trovano qualcosa da mangiare. La situazione, dicono i residenti, è diventata insostenibile. Se non si trova un rimedio, potrebbe addirittura peggiorare. Sul terrazzo di questo stabile semiabbandonato nel centro di trani, i gatti ormai non si contano più e nei prossimi mesi aumenteranno di numero. Evidentemente, figli di una prima cucciolata, si sono come impadroniti del territorio ed è difficile adesso portarli via. In città, casi come questi, ci spiega una volontaria dell'associazione Il Colarino Rosso, ce ne sono tantissimi, il rischio è che finiscano avvelenati. Ci sono dei luoghi in cui sono concentrati. Chiaramente la gente, quando si scoccia, succede questo, che polpettine avvelenate se li tolgono dalle scatole. Si rivolgono al sindaco, ci aiuti a trovare i fondi per la sterilizzazione dei gatti, altrimenti sarà una mattanza. Noi dal comune non prendiamo un centesimo, tutto quello che facciamo lo facciamo con le forze dei soci. Siamo 700 soci, quasi tutti i sottrani, ognuno paga una quota associativa di 10 euro l'anno e poi facciamo l'impossibile per riuscire a mettere insieme qualcosa per gli interventi, le sterilizzazioni, noi raccogliamo animali investiti e non abbiamo a chi rivolgerci. Quindi chiediamo al nostro caro sindaco di venirci incontro in qualche modo. E tutto arrivederci.